Madonna, io già che c'è sto... Allora, nel gioco c'è un tizio che ci guarda, ci spia, in maniera strana. Questo sarebbe un baby? No, questo ci spia. È uno Sliderman che non ci ha creduto abbastanza, però. Signor Bub, sai. Lei. Ma le foto sono di una persona reale? And I left the house. Vabbè, vabbè. Ok, ok. La voce di chi parla dice tutto. Sì? Basta con sti picciritti che piangono. Basta con sti picciritti che piangono ogni volta. Ma non è che sono diventata una babysitter io qua? Amore, non sono nata madre. Non, 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 non faccio la madre. Quindi non so che cosa dirti, amore. Bella! Ma poi tutto il latte a terra. No, no, non ho abbastanza succiato latte nelle tette, mi sa. Non lo so. E non lo so. E lo so che devo andare a guardare mio figlio. Allora, allora. Allora, guarda il tuo bambino. Sì, quindi io sono la mamma vero. C'ho... Tento rumore di tacchi, quindi sono la mamma vero. Qua c'è la lavatrice. Dove sarà mio figlio? Al piano di sopra. Salve. Allora, father room. Toilette upstairs. Quindi il bagno del secondo piano. E dov'è ho picciritti? A parte che ho picciritti non piangere più. Pronto? Baby room. Trovata. Ah! È un bambino reale? A me non mi sembra un bambino reale, raga. O sono io che non conosco i bambini reali? Perché il bambino sta indossando una maschera? Perché è impossibile questa cosa. È un adulto. È un adulto, non è un bambino. Amore, sei cresciuto in fretta. C'hai sviluppato, cavolo. Hai sviluppato subito. Sì. Clean the living room. Oh, ok. Ma non dovevo guardare il bambino? Oh, ma ci abbiamo pure un gatto. Ci abbiamo... Il bambino e il gatto. Ma il marito? Non c'è. È inquietante. Molto inquietante. Signora, le ho solo toccate il latte. Era... Era solo il latte. Bello sto orologio così. Mi piace. Uno? Questi bambini crescono così velocemente. Sì. Bene. Signora, il latte. Signora. Ehi, ehi. Sta piangendo. Amore, arrivo subito. Arrivo subito. Belli sti quadri poi, comunque. Mi piace questa casa così moderna. Vengo, amore. Arrivo, arrivo, arrivo. E ora dov'è? Oh, piccerido. Amore. Che è successo? Eh... Vieni con me. Ti porto nel lettino. Che è... Wai, questo bambino si trasporta, comunque. Sì. Cosa desidera? Serve qualcosa? Il sale? No. Il sale non gli serviva. No, no. Il sale non gli serviva. No, no, no. Niente sale. Niente sale. Eh, vado a... Continuo a pulire la stanza, allora. No, no, no. Il sale non... Quanto pare a lui non serve. Maria, ora c'ho paura delle finestre, però. Mannaggia. Sei. Vieni. Allora, fermi. Fermi. Un bacino... No, volevo aiutarlo. Magari vuole un po' di latte il signore. Ne abbiamo un sacco qua di latte. Ma magari sì, eh. Solo che... Il signore vuole un bacino. No, no. Il signore vuole... Vuole mica del latte? Magari vuole... Vuole il latte. Nel senso... In quel cazzo siamo in due. Roba vuote, quindi lo vado a comprare. Se ne devo comprare di più, basta che me lo dice. Lo vado a comprare. Vuoleva il latte. Sì, sì, sì. Però ho preso il latte da terra, lui si è... Che cazzo ti strilli? Che cazzo ti strilli? Boh. Non lo so. Dov'è? Chi è? Garage. Bella, compà. Bella. A posto? Signora. A posto. Allora qua. Allora qua tutto a posto, signora. Qua tutto bene. No, 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 no. A posto. No, no. Signora, abbiamo constatato prima che andava tutto bene. Abbiamo constatato prima che andava tutto bene. Mi tocca. Sì, buonasera. Cosa posso fare per lei? Una bella chiave nell'inventario. Poi, un bel trapano. Una bella sega e un bel cacciavite. Signora, lei ha usato tutto, tutto, tutto l'ambaradan qua. Allora io vado, signora. Ma che cazzo è? Ma che vuol dire? Ma perché? Ma a parte che mi hai detto che sono morta Non mi hai detto nemmeno corri Sì Corra Corra Run Corro Aspetta Un attimo Corro Corro Sì Corro Corro Fortissimo Corro È l'oppite Corro Corro Non mi avrai mai Ma dove cazzo sono finito? Corro Via 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 Vado velocissima Sono infermabile Sono una catapulta Vado 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 Run 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 Via 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 Che voleva dire questo gioco? Grazie a tutti.